Benvenuti a questo nuovo ciclo di esplorare i confini. Qual è il significato di questa insistenza, vi chiederete voi? Il significato è quello di mostrare proprio come nel momenti più difficili, bisogna saper fare affidamento sulla propria creatività e spirito d'iniziativa. Questa è stata la nostra scelta, in un momento di crisi come quello dettato dalla pandemia, rilanciare un discorso più ampio e innovativo. Quindi questa nuova serie vi accompagnerà per tutta la primavera e nei mesi finali di questa crisi sanitaria. Bene, si inizierà parlando del Carnevale di Fano, della sua storia secolare, poi si toccheranno temi come le onde gravitazionali, l'origine della vita nel cosmo, la vita e l'arte di un grande musicista John Cage, di Nietzsche e di Wagner, di Domenico Modugno, di Fake News e della salute di Gacciaia Alpini, dell'arte giapponese e del suo influsso sulla pittura europea dell'Ottocento. Vi invito quindi ad ascoltare, a partecipare e se il discorso portato avanti vi piacerà, a collaborare con il Circolo Biantini e sulle sue iniziative. Buon ascolto a tutti e arrivederci a presto. Buon ascolto a tutti e arrivederci a presto. Buonasera a tutti e a tutte. Abbiamo voluto iniziare questa puntata mettendo, per così dire, in epigrafe questa citazione di Virgilio tratta dalle georgiche, che parla delle guerre civili, proprio per affermare subito, con chiarezza, che la storia, la vicenda dei profughi siriani è la nostra storia. Non dobbiamo guardarla come qualcosa che non ci appartiene. Si può fare anche la riflessione che, se guardiamo la storia del nostro paese, anche mitica, è strano pensare che Enea, il fondatore di Roma, era un profugo, che Dante Alighieri è stato un profugo, che un profugo è stato anche Ugo Foscolo e tanti altri. Quindi la storia dei profughi siriani è la nostra storia. Dobbiamo avere, insomma, la dignità, la chiarezza di di affermarlo. Infatti oggi siamo qui proprio per parlare del dramma della Siria. Siamo qui con Abdel Rahim Sian, profugo dei campi in Libano, rappresentante dei profughi, dei milioni di profughi che si trovano in quella zona, dei profughi siriani. Poi c'è Alberto Capannini, che è un volontario insieme a Rihanna Valentini dell'operazione del Corpo di Pace, operazione colomba, che agisce proprio nei campi dei profughi in Libano. E parliamo di Siria. Bene, quindi dobbiamo inquadrare la vicenda storica della Siria. La Siria è un paese glorioso, ha una storia veramente antica. Alcune città risalgono al quarto millennio a.C. e poi c'è Palmira, che è documentata già negli archivi assiri del XIX secolo a.C. Una città che Plinio il Vecchio diceva era lo snodo di commerci tra l'India, la Mesopotamia, la Cina e l'impero romano. Quindi una terra di civiltà antichissima, una terra che si trova da sempre in un punto di contatto tra tante civiltà. Questo spiega anche la sua ricchezza da un punto di vista etnico, di popolazioni e di fedi religiose. Nei tempi moderni la Siria è stata a lungo sottomessa all'impero ottomano, poi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passata per alcuni anni sotto il dominio francese, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Da lì è iniziato un faticoso cammino di autonomia, una Repubblica, che però fino agli anni 70 è stata travagliata da continui colpi di Stato o tentati colpi di Stato, finché nel 1970 la dinastia degli Assad, possiamo chiamarla così con un termine quasi monarchico, ha conseguito il potere praticamente assoluto, perché da allora c'è stato una condizione di emergenza continua, quindi le libertà costituzionali sono state di fatto soppresse. Quindi dal 1970 al 2000 è stato il turno di Afiz al-Assad e dal 2000 invece di Bashar al-Assad, che è ancora l'attuale presidente della Siria. Nelle grande svolte è stata nel 2011 quando sulla scia della primavera araba, anche in Siria sono esplose delle manifestazioni di piazza. All'inizio queste manifestazioni erano pacifiche e anche il potere degli Assad, della famiglia Assad è rimasto come attonito di fronte a questo, per un po' di tempo è stato come a guardare. Poi però dopo pochi mesi è esplosa una repressione violenta, violentissima e crudele. Il regime non ha esitato a usare strumenti come arresti indiscriminati, violenze anche mortali e tortura. Questo insomma è stato denunciato da associazioni umanitarie, da Amnesty International e naturalmente dalle organizzazioni dell'opposizione siriana. Poi per tre anni, per un paio di anni ci si è trascinati in questa lotta che ancora era prevalentemente interna e sembrava che il regime di Assad vacillasse sotto la spinta di varie forze dell'opposizione. Però nel 2013, alla fine del 2013 c'è stata una svolta perché la Russia è scesa in campo, prima a livello diplomatico e politico, poi alla fine del 2013 anche proprio a livello militare. Questo è stato l'inizio di una fase terribile per la Siria. Cioè la Siria è diventata il terreno di scontro di forze esterne. Poco dopo, nel 2015, è iniziata l'offensiva dell'esercito islamico, dell'Isis, che ha portato insomma una ondata di violenze che forse non sono la parte maggiore, anche se sicuramente le più crudeli. E poi ancora nel 2016 è stata la volta della Turchia. La Turchia, da nord, ha fatto il suo ingresso militare sul territorio siriano per contrastare soprattutto i kurdi, la parte etnicamente che appartiene all'etnia kurda del nord della Siria, che invece si era installata nel nord-est. Quindi nel 2017 è stata la volta di una coalizione guidata dagli Stati Uniti e così via. Senza dilungarsi troppo nei particolari, qual è la realtà di oggi della Siria? È la realtà di un territorio percorso da truppe di ogni tipo. Insomma, sono gli attori, politici e militari che occupano il territorio siriano, sono variegati, sono tantissimi e in profondo anche contrasto tra di loro. Da una parte abbiamo il fronte lealista, cioè quello che sostiene l'esercito di Bashar al-Assad, qui abbiamo milizie ischite libanesi, gli Hezbollah, abbiamo milizie irachene, i Pasdaran iraniani, abbiamo militari e contrattori russi, per elencarne solo alcuni. Poi ci sono i kurdi, il fronte democratico kurdo, quindi il PKK siriano, c'è l'esercito turco con milizie siriane filoturche, poi c'è la parte che adesso sembra in decadenza dello Stato islamico, dell'Isis, che comunque era finanziato da potenze esterne, come Arabia Saudita e Qatar. Ci sono le forze statunitensi, ci sono raid israeliani e su tutto poi c'è il ruolo semineutrale della Cina, quindi un intreccio veramente intricatissimo e difficile da risolvere. Anche la situazione interna della Siria non è semplice, perché ci sono potentati economici, ci sono potentati religiosi, c'è il potere degli Assad, ci sono dei poteri locali, quindi la situazione è veramente complicata. Questo è veramente tragico perché chi ne fa le spese è il popolo siriano, le cifre sono veramente da incubo, si parla di una diaspora di 5 milioni di siriani, 5 milioni di siriani sono dovuti fuggire all'estero. All'interno della Siria si stima 6 milioni di sfollati, sono una popolazione che all'inizio, cioè nel 2017 era stimata di quasi 19 milioni, quindi metà della popolazione è stata o costretta a fuggire, espulsa, oppure è movimentata all'interno della Siria. I morti sono stimati intorno ai 500 mila, è stato veramente una ecatombe. Chiaramente il tessuto delle infrastrutture, il tessuto economico è devastato, adesso la Siria è anche, anche se sembra che ci sia un momento di stasi nello scontro bellico, perlomeno è soppito, però la crisi economica è vertiginosa, le ultime notizie dicono che gli stipendi degli impiegati, del pubblico sono praticamente azzerati, c'è una svalutazione vertiginosa, 70 volte rispetto a quello che era il 2011. Le strutture sanitarie sono praticamente inesistenti anche di fronte alla pandemia, sono state bombardate, continuano a essere bombardate scuole, ospedali, mercati, insomma chi fa le spese di questa situazione terribile sono proprio i civili. Bene, quindi per questo siamo qui per parlare con Abdo, cercare di capire cos'è successo quali sono le vie d'uscita, è un viaggio insomma che è doloroso, che non è una tragedia, però è un viaggio che è anche ricco di speranza perché poi vedremo ci sono persone che di fronte a questo sanno reagire e sanno mostrare che è possibile uscire da questo incubo che, ripeto, ci riguarda profondamente tutti insomma, anche perché è sul Mediterraneo che questo avviene. Quindi ecco vorrei così porre alcune domande a Abdo, per esempio chiedergli come era la sua vita prima di questo incubo, prima che esplodesse questa terribile guerra civile, come si viveva nella tua città, al Khosair, giusto? Khosair, Khosair, come era la tua vita Abdo? Ciao, sono Abdo, sono insegnante, lavoravo insegnante in Siria, all'emittadale, nascito molto male a mezzare il mondo del mondo del mondo del mondo del mondo del mondo del mondo, e ho lavorato anche a mezzare a mezzare, quindi abdo. Ciao, tutti, sono Abdo e in Siria facevo l'insegnante e lavoravo anche come mediatore per il dialogo interreligioso. Sono dovuto scappare dalla Siria nell'agosto del 2011, dopo che la rivoluta era iniziata da circa cinque mesi, a causa di pressioni che mi erano state fatte da parte del governo siriano. Ho pensato di fuggire in Libano perché la mia città, la città dove sono nato, si trova sul confine tra la Siria e il Libano, quindi il Libano era il paese più vicino dove potevo scappare dalle pressioni e dalle minacce del regime. Quindi siamo nel nord del Libano, nel nord-ovest della Siria, nel nord-ovest della Siria. Ma qual era il governo? Perché ce l'aveva con te? Qual era il motivo di questa persecuzione? Io ricoprivo una figura di mediatore all'interno, diciamo, per il dialogo interreligioso. Ho fatto anche l'imam e parlavo spesso a favore del dialogo tra religioni e questo non veniva visto di buon occhio dal regime. C'è un'imamico. non è vero perché le persone che hanno scelto di tutti i tawaif e tutti i tawaif hanno scelto di la verità e di la libertà e di la verità e di la verità. All'inizio della rivoluzione quando i primi manifestanti hanno cominciato a scendere nelle piazze per chiedere la libertà e la giustizia il governo ha subito strumentalizzato, ha iniziato una propaganda dicendo che chi manifestava era un terrorista, un terrorista islamico in generale e quindi il mio lavoro di mediatore si è fatto ancora più importante in quel momento con un gruppo di persone tra cui insegnanti come me, avvocati e tante altre persone giravamo molte città della Siria per cercare di portare un'opinione che fosse diversa da quella della propaganda governativa. Quindi un tentativo di creare un dialogo, un accordo tra le varie componenti della società e questo era visto male insomma dal governo, insomma è strano pensare questo. Utilizzare sono quello che vuoi l'Anzimia Dictatoria Exactly don't că ne vede runga o ne vedeură, adorme, banalele le nâștini al-medaveri, ea ADONURAL, dritudinele, dâima, dâ解zionate, dar sprijinati, nu m-e, nie�� un mondiale, nori nuşe fac, dar insezioni nocchi de xa, dâima, nuşe fac, dâanci, c'etat, ullah, unsezionate, i-m thusi, i-m-on m-e, i-m-e, dâ Apache, i-m-e. Orcehene, i-m-e, Quindi sono stati contro il nizamo, e il nizamo è sempre attaccolato, e ci sono stati 100 o 1000 dei sottotitoli da 10 anni, da 10 anni e da prima, che sono stati in Syrii, sottotitoli e non so se sono fatti o sottotitoli, solo perché loro si parlano sull'immagine e sull'immagine sull'immagine. In tutti i regimi dittatoriali succede che gli attivisti per i diritti umani o che parlano a favore della pace, della riconciliazione e del dialogo interreligioso vengono riconosciuti come oppositori al governo. In Siria questo fenomeno non è iniziato nel 2011 con le manifestazioni e poi la guerra civile, e anche prima del 2011 nelle prigioni siriane erano rinchiusi oppositori del regime solo per aver parlato a favore dei diritti umani e per il dialogo interreligioso. Questo caos che è esploso in Siria, sicuramente abbiamo visto, c'è anche l'azione di attori esterni perché in Siria ci sono giacimenti di petrolio, c'è il gas, ci sono oleodotti, gasdotti, è una posizione strategicamente molto importante. Però che ruolo ha giocato la mentalità dei siriani? Cioè il problema religioso? Cioè il fanatismo, l'odio tra diverse religioni? Ha avuto un ruolo importante questo? E' un problema che c'è stato che ci potrà essere anche in futuro? Cioè, ho parlato di prima cosa, il racconto che abbiamo fatto in un modo di fare un'attività, senza che non si tratta di un'attività in un'attività, perché ci sono stati che i nostri in un'attività, perché ci sono stati che i nostri in un'attività, perché ci sono stati in un'attività in un'attività. ... ... ... ... il nizam è il che si si incontra e si accida come dramma e poi fai fatto un po' daish e il nizore è il che si accidono inizialmente ma il nizam è il che accidono inizialmente ma il nizam è quello che accidono è quello che accida il nizam è quello che si accidono inizialmente per chiudono per fare il mondo che mi ha preparato inizialmente In Siria nel 2011 non era in corso un conflitto religioso, cioè su base confessionale. Nel 2011 scendevano in piazza ragazzi, ragazze, uomini e donne di tutte le religioni, di tutte le confessioni, di tutte le tribù presenti sul territorio siriano. E quello che noi adesso chiamiamo, diciamo, quello che possiamo riconoscere come conflitto tra le religioni è stato creato dal regime siriano ed utilizzato come strumento per dividere le comunità, quindi per rendere ancora più debole un'eventuale resistenza al governo. C'è un'eventuale. e questo sono i nostri amici del mondo e si sono stati realizzati con questo era il mondo, cioè i nostri amici, però i nostri amici fatti con i nostri amici, e il governo in questo è riuscito benissimo, è il governo che ha permesso a gruppi terroristici come Jabhat al-Nusra e l'Isis di nascere ma anche di potersi sviluppare sul territorio siriano. E' vero che Jabhat al-Nusra e l'Isis, Daesh e gli altri gruppi terroristici combattevano contro il regime ma il regime glielo permetteva e comunque lo scopo e l'obiettivo e le conseguenze sono state le stesse, cioè un massacro di civili. Era un nemico del regime ma era anche uno strumento per le mani del regime. Quindi in questa situazione terribile che esplose, in questa guerra civile, mi ricordo diceva Alberto che a un certo punto si potevano contare 300 fazioni armate diverse. Questo caos ha costretto poi milioni di siriani a fuggire, immagino da quello che so, soprattutto chi non voleva, mi pare voi dite, chi non voleva né uccidere né essere ucciso, ha dovuto scegliere di fuggire. Quindi si sono creati questi campi profughi, in particolare nel nord del Libano si parla di un milione e mezzo di rifugiati, quindi anche centinaia di mediaia di bambini. Com'è cambiata la tua vita, Abdo, quando ti sei trovato nel nord del Libano in un campo profughi? Quali sono state le difficoltà da affrontare subito? E' un po' che, in realtà, è difficile da dire come c'è stata la vita in Soria, come si sono stati in Soria. E' un po' che ci sono stati in Soria, avevo circa 50 mili metri quadri per terra. E' un po' che c'è stata la vita in Soria, avevo un po' che c'è stata la vita in Soria. In Siria avevo 50.000 metri quadri di terra e la metà più o meno erano alberi da frutto e campi coltivati e non è facile raccontare come è cambiata la mia vita quando sono andata in Libano. Anche ho un'occasione per l'adono delle cose che sono stati, ho un'occasione per la città, ho un'occasione per la città, ho un'occasione per la città e ho un'occasione per la città. Anche ho un'occasione per l'adono, c'è un'occasione per l'adono, quindi un'occasione per la città e la città, quindi non si sta facendo un'occasione per l'adono, è un'occasione per l'adono, ci sono calcione per l'adono della città. ma non c'è nulla e sono scappato con mia moglie i vestiti che avevamo addosso e i soldi che avevamo in casa e non abbiamo neanche avuto il tempo di fare delle varigie e andare a vivere in Libano ha voluto dire ricominciare da zero Ecco, quando siete arrivati in Libano c'è la terra per esempio vi è stata offerta per piantare le tende o bisognava pagare anche quello? c'era l'acqua disponibile? come erano le condizioni proprio materiali di questo inizio così drammatico? Ok, in 2011 non c'erano molti ragazzi mi sono arrivati in Libano nel 2011 non c'erano mai mi sono arrivati in Libano ma dopo non c'erano le condizioni che hanno fatto le condizioni che hanno fatto all'inizio quando io e mia moglie siamo scappati in Libano siamo stati ospitati da una famiglia libanese in una piccola cittadina sul confine che si chiama Wadi Khaled nel nord del Libano e nel 2012 ci siamo trasferiti ci siamo spostati a Halba una città che si trova sempre nel nord del Libano e abbiamo comprato un po' di terra la terra il coltivare la terra è stata sempre una cosa molto importante per noi che ci ha sempre tenuto legati alle nostre radici e quando poi negli anni successivi ho costruito e ho creato una scuola per bambini siriani per ragazzi e ragazze siriane e anche lì c'era sempre uno spazio di terra che io insieme ai bambini e ragazzi potevamo coltivare in queste tende in queste abitazioni dove sono ospitate centinaia di migliaia di persone credo di capire distribuite in un'area molto vasta del Libano per esempio c'è elettricità c'è acqua corrente come si fa fronte le esigenze fondamentali della vita? le esigenze le esigenze le esigenze le esigenze le esigenze il scegliere il fintor il può essere il scegliere il scegliere il scegliere ilTRE e di guerra, chi vive ancora nei campi in questo momento vive anche la crisi che sta attraversando il Libano, una crisi economica fortissima che colpisce anche i libanesi, quindi colpisce ancora di più i siriani che vivono nelle tende. Nei campi profughi non c'è acqua potabile, l'acqua che si beve non è acqua pulita e generalmente le famiglie che ci vivono non hanno abbastanza soldi per comprarsi acqua nelle bottiglie di plastica e anche l'elettricità ce n'è sempre di meno, al massimo un'ora al giorno, a volte per intere giornate non c'è neanche. Immagino che ci sia anche un grosso problema sanitario, cioè se una persona, una donna o una bambina si ammala. Come si fa? Cioè si può fare raffidamento sulle strutture sanitarie su di ospedali libanesi? O c'è un problema? Mouduo al-sahha produttio di indっちゃionismo. È un problema molto difficile da Anglia e non ci molte la azzurra. Si è un problema difficile aanny, non ci sono un problema di ciò che c'è legge in un livello ciò che si facessero, ma non c'è legge in l'abondetta quindi anche se il libnano a gli u painfuli, a un'immagine di messa. Come si può fare l'abondetta nel lato il e aiutare con tutti gli gli altri e tutti gli altri che trattano pari basi solo nell'immagrazione quindi se non riesce a fare e non riesce a fare le loro quindi non riesce a fare senza rispettare con un'ingreso con l'allocato e il rio alla salute in tutto il allobnano e in particolare con le leggi in Suria. In realtà è il secondo che non è vero. Il sistema sanitario libanese è un sistema sanitario che porta grossissimi problemi, nel senso che è un sistema privato, per cui sia i libanesi che i siriani che non hanno grosse risorse finanziarie se non pagano, non avendo abbastanza soldi, non riescono a curarsi. Gli stessi libanesi possono morire davanti alla porta dell'ospedale senza che nessuno faccia niente. In questo momento, sempre a causa della crisi economica che sta vivendo il Libano, scarseggiano moltissimi medicinali di tutti i tipi e la pandemia ha aggravato questa situazione. Anche i libanesi che prendono il Covid, se non hanno abbastanza soldi per pagare sul letto d'ospedale, non vengono fatti entrare. Quindi possiamo immaginare che con i profughi siriani la situazione sia ancora peggiore. A questo punto volevo rivolgere qualche domanda anche ad Alberto Capandini. perché Operazione Colomba agisce già dal 2013, adesso non ricordo bene se addirittura prima o dal 2013, dal 2013 dei volontari di Operazione Colomba, che ricordo è il Corpo di Pace dell'Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini, ebbene, i volontari di Operazione Colomba sono sempre presenti, cioè dormono nelle tende con i profughi, li assistono, li accompagnano in momenti difficili, eccetera. Questa tra l'altro è un'attività che Operazione Colomba non svolge solo nei campi profughi siriani in Libano, ma anche per esempio in Colombia, nella comunità di San Jose da Partadocia, in situazioni dove in qualche modo bisogna con la propria presenza anche garantire una situazione di pace, o far sentire la propria vicinanza a persone, come in questo caso, che sono in difficoltà. Quindi tu Alberto hai avuto esperienza diretta di questi campi, quindi volevo chiederti ma gli aiuti internazionali, per esempio, ci sono, hanno un'efficacia, arrivano a destinazione, com'è insomma questo aspetto della questione? Beh, noi abbiamo un punto di vista molto particolare che è quello, diciamo, di chi vive tra i profughi. In questo momento c'è un gruppo di persone giù che non vive nel campo proprio per il Covid, ma molto vicino al campo, e se gli aiuti arrivano, gli aiuti arrivano e permettono la sopravvivenza, però purtroppo non si riesce ad andare oltre la sopravvivenza e quindi le persone, in particolare Sirene, si trovano in quella situazione per cui tu hai l'acqua veramente oltre la gola, per cui qualsiasi movimento ti mette nei guai, in guai in cui rischi la vita. Per cui, nell'esempio che facevi prima, una famiglia sopravvive, se una persona della famiglia si ammala, la famiglia fonda, si indebita, tutti sono indebitati in maniera gravissima per migliaia e migliaia di dollari con alcuni libanesi o con qualcuno che gli presta i soldi. Qualcuno riesce a lavorare, però i documenti non ci sono, perché il Libano non ha aderito... Non ha riconosciuto una convenzione di Ginevra e anche perché la guerra civile libanese finita negli anni 90 è nata dall'accoglienza di profughi palestinesi, quindi il Libano ha paura che accogliere definitivamente questo milione passo di profughi siriani porterà in un'altra guerra. Quindi sì, non hanno neanche i documenti. Si può essere arrestati in qualsiasi momento? Gli uomini soprattutto possono essere arrestati in qualsiasi momento, quando scherzosamente parliamo tra noi questi siriani con cui viviamo, gli diciamo che loro in realtà non sono profughi, perché un giorno forse riusciranno a diventare profughi, c'è persone che hanno perso tutto, non hanno più una patria, però stanno aspirando a diventare profughi, per ora sono ancora nella condizione precedente. Non hanno neanche questo statuto. Abdo mi ha colpito una tua affermazione, tu hai detto torneremo, non sarà un problema tornare in Siria perché i siriani vogliono tornare in Siria, ricostruirla. Tu hai detto non sarà un problema tornare in Siria senza niente, magari anche nudi, ma il problema sarà tornare portando due o tre generazioni di bambini analfabeti, di giovani analfabeti, perché ormai c'è già una generazione di bambini che è nata nei campi, quindi la tua lotta in particolare è stata quella di fornire un'istruzione. Com'è questo aspetto? Cioè l'educazione dei bambini, insomma come si può risolvere? Cioè l'educazione dei bambini. Cioè l'educazione dei bambini, anche il bambini di bambini di bambini di bambini di bambini di bambini, ovviamente d' acknowledged che la playingo noncharamo la squadra. Cioè l'i l'educazione dei bambini di bambini dienesia. Vaya da loro, tenerci attività della scola, quindi rimasta che gli ciboano che hanno men긴 una squadra di bambini, e il 30% non è riasmo. Il trattamento è molto semplice nel Lubnano, anche dopo la baccalauria, dopo il superiore, non c'è un punto di vista che non potrebbero farlo e non potrebbero farlo. Anche i ragazzi non potrebbero farlo e non potrebbero farlo. Io credo che il problema dell'istruzione sia il problema più grande che riguarda i profughi istrani dal 2011. È vero che tanta gente muore di fame, non può essere curata, però il fatto che intere generazioni non siano state istruite è molto più grave di qualsiasi bisogno di cose materiali. In Libano il 30% dei bambini siriani non va a scuola. Un altro 30% va a scuola ma non in scuole ufficiali, quindi dove non verrà riconosciuto da nessuno, da nessuna parte che ha studiato. e un altro 30% frequenta delle scuole ufficiali ma dopo il diploma di maturità non si può iscrivere alle università perché i siriani non possono iscriversi all'università in Libano. Quindi è questo il vero problema. Sono questi bambini, questi ragazzi il nostro futuro. Non solo hanno il diritto all'istruzione in Libano, ma non hanno i documenti, perché tutti i ragazzi e i siriani non hanno il diritto all'istruzione in Libano, ma non hanno i documenti. Non solo i ragazzi siriani e le ragazze siriane non hanno il diritto all'istruzione in Libano ma non hanno neanche un documento che riconosca ad esempio che sono nati in Libano moltissimi bambini sono nati in Libano nel 2011 ma non vengono segnati all'anagrafe in Libano non si può tornare in Siria a registrare all'anagrafe di là quindi molti di loro semplicemente non hanno neanche documenti che attestano che esistono certo, questo rischia di essere un problema veramente enorme Alberto, cosa si può fare in questa direzione secondo te? la prima percezione, la prima cosa che si capisce stando un po' in un campo profughi è che queste persone non hanno un futuro non hanno un futuro per le cose che abbiamo sentito perché non c'è possibilità di avere accesso al lavoro perché la sanità è un disastro perché la scuola non c'è io penso che come dicevi tu all'inizio il punto di partenza sia renderci conto che non abbiamo dei destini diversi noi rispetto a queste persone non è che noi possiamo avere accesso a questa sicurezza che sembra un problema solo per noi mentre altre persone fanno una vita invivibile o riusciamo ad avere una sicurezza comune un futuro comune oppure nessuno sarà sicuro nessuno avrà un futuro quindi direi il punto di partenza è coinvolgersi in questo problema nonostante la situazione che abbiamo dipinto non è impossibile vivere in un campo profughi e stare a fianco a queste persone anzi è un'immersione profonda in un'umanità molto viva problematica ma molto viva io vorrei a questo punto fare una domanda anche a Rihanna non come interprete ma come volontari di Operazione Colomba cosa si impara a vivere in una realtà come quella dei campi profughi siriani in Libano? da che punto di vista? così come diciamo noi siamo fatti anche di idee, di valori insomma di esperienza umana cosa vuol dire questo? si impara un'umanità diversa una capacità di reagire sì sicuramente per me io faccio cioè sono volontaria con l'Operazione Colomba dal 2017 e ogni volta che mi trovo in Libano mi sembra di respirare un'aria più fresca come se quello che vivo non fosse filtrato dalle sicurezze che ho qui e cioè mi rendo conto che è tutto più pericoloso tutto più incerto e noi comunque come volontari ci troviamo cioè a vivere anche sulla nostra pelle il dolore che vivono le persone con cui condividiamo le giornate però è come se fosse tutto molto più profondo cioè come se tutto quello che si vive avesse un colore più acceso rispetto cioè a quello che vivo qui sì immagino anche che certe barriere come dire di etniche di idee poi lì ci si trova che svaniscono insomma immagino che sia un contatto con l'umanità con l'essere umano nella sua totalità questo sicuramente è come dire di un'importanza enorme per il nostro mondo futuro cioè se vogliamo concepire penso è un futuro avere una visione sulla nostra terra insomma tutti i problemi che ci sono ma ecco poi la cosa che colpisce molto è che in tutto questo dramma quindi bambini che non hanno una patria una collocazione un'identità diciamo per la legge per la burocrazia donne che non possono far fronte alla malattia famiglie senza lavoro eccetera eccetera però i profughi siriani si come dire si ergono hanno insomma la dignità di lanciare una proposta di pace questo penso che sia di un esempio straordinario c'è la volontà di costruire la pace quindi Abdo è uno dei portavoce di questo messaggio cioè di fronte a una tendenza che poi insomma su questo mi pare che c'era anche una profezia di padre dall'oglio state attenti diceva Alberto perché la crisi siriana può portare a un arroccamento nazionalistico anche dell'Europa eccetera però invece la proposta di pace ci insegna proprio questo che la risposta non è arroccarsi ma scendere in campo con la propria intelligenza e cercare di costruire un dialogo è un futuro diverso che insomma questo serve a tutti non è che serve solo il popolo siriano quindi ecco sapendo che Abdo è uno dei portavoce in cosa consiste questa proposta di pace? perché giustamente il problema è chi sta decidendo sulla sorte dei siriani in questo momento storico chi è che decide? il rifugio è il rifugio siriani in lebanone senza senza futuro senza diritti umani sono senza diritti umani niente perché non c'è non c'è il rifugio Il nostro corso, il nostro corso, il nostro corso, il nostro corso e il nostro corso. Non c'è un caso di l'agricchia in Libanon, perché noi siamo venuti come l'agricchia in Libanon. Non possiamo tornare a tornare, prima cosa che abbiamo fatto l'agricchia in Libanon. La mafia, la militia e le militia, come le militia, le militia e le militia, le militia e le militia. tutti i profughi siriani in libano l'avete capito l'ha detto in italiano non hanno nessun tipo di diritto e non c'è neanche una speranza per il loro futuro in questo momento e per come stanno le cose adesso non possono non possiamo tornare in Siria cioè troveremmo la stessa persona da cui siamo scappati e non solo la metà dei nostri parenti sono ancora rinchiusi nelle carceri siriane da 10-20 anni e quindi per come stanno adesso le cose un ritorno ad una vita normale in Siria non è pensabile è per questo che abbiamo scritto la proposta di pace e per come stanno le basi è quello che abbiamo chiesto è quello che abbiamo chiesto per l'arrazione per l'arrazione ... ��oria britannica ierebbe pensare il giro negli ricorragili retrokrati come giurata c' puoi fare un'acramos ma più si ricordo l'armo ab bla co ocho l'abon abbiamo chiesto con la proposta di pace che venisse costruita all'interno del territorio siriano una zona umanitaria dove non possono entrare attori armati come quelli che occupano adesso il territorio siriano e dove le persone si possono curare quindi dove ci sia il diritto alla sanità e all'istruzione i profughi siriani non vogliono rimanere profughi per tutta la vita cioè nessuno sceglierebbe di scappare dal suo paese se non fosse costretto e quindi questa proposta chiede appunto l'istituzione di una zona umanitaria dove possano tornare i civili cioè chi questa guerra non l'ha mai voluta e dove appunto si possano ristabilire i nostri diritti e riprendere una vita normale, pacifica e in sicurezza Bene, a questo proposito potremmo adesso guardare insieme un cartone animato che è stato prodotto nei campi profughi siriani in Libano che contiene la proposta di pace Alberto, puoi dirci come è nato questa idea, questo progetto? Sia la proposta di pace che il cartone animato sono nate ascoltando famiglia per famiglia ogni famiglia noi abbiamo chiesto dici qualcosa che vuoi mettere in questa proposta e sia il testo della proposta che trovate sul sito di Operazione Colombo sia il cartone animato vogliono raccontare la realtà di queste persone quindi l'animatore è un amico libanese che quotidianamente veniva su al campo per aiutare le famiglie più in difficoltà chi ci ha lavorato dentro sono volontari come noi ed è un tentativo di raccontare con un linguaggio diverso non un linguaggio diciamo ufficiale, politico, un linguaggio più comprensibile da tutti quindi guardiamo insieme questo cartone animato veramente molto bello Have you ever stood watching your life, passing by, without ever feeling you really own it? Syria has been at war since 2011 a war that shows no sign of ending military groups have taken over our country as we were expelled from our houses and cities if we stay in Syria we don't have any alternative but to kill or be killed to live in a fear or escape if we flee Syria as refugees we are continually humiliated and abused millions of us live outside our country without a home or the opportunity to work without medical assistance or education for our children we simply do not have a future as the failed peace talks participate only those with economic and political interests in Syria we do not consider them bearers of our requests we are the real victims of this war but the only right we are granted is to silently choose how to die but this is not what we want our destiny to be we, the Syrians refugees in northern Lebanon gathered in organizations and associations simple citizens and families having escaped from violence and death have written a peace proposal civil and non-violent in order to stop the war in our country advocating for the creation of a semi-humanitarian zone in Syria outside the control of the government or of any armed faction to which we can safely return if the founders sound of weapons we claim the right to let the world hear our voice together with those who already support us and those who will have the courage to join this abbey will you stand with us? Obrigato et.com These designs and phrases fanno veramente molto riflette ci devono fare riflettere, è possibile cambiare il corso della storia, non è detto che la storia sia ostaggio delle forze più brutali, più feroci dell'umanità. Quindi la proposta di pace è stata portata da voi, anche Alberto mi pare insieme, nel Parlamento italiano, è stata presentata dal Parlamento italiano, è stata presentata a varie istituzioni, come è andata questa vicenda Alberto? C'è stata accoglienza, c'è stato ascolto? La prima volta che abbiamo portato in Europa è stato al Parlamento italiano, venendo dalla quotidianità nei campi profughi, non so per che motivo, io pensavo che quello sarebbe stato la fine di questo percorso, noi consegniamo questa proposta ai politici e poi la portate avanti voi e quando ci siamo alzati al Parlamento italiano e alla Camera per raccontare questa proposta, guardando le persone che ascoltavano, che erano dei politici, anche sensibili, dei giornalisti, abbiamo capito che quello non era la fine, era un inizio. Dopo il Parlamento italiano abbiamo incontrato il Parlamento europeo più volte, siamo stati dal Papa all'ONU a Ginevra più riprese nel Parlamento tedesco, il Parlamento francese e ogni volta cercavano di mettere in mano la voce di queste persone a chi secondo noi poteva ascoltarle, poteva cambiare qualcosa e ogni volta mi sono chiesto, siccome gli incontri sono sempre stati molto caldi, con persone disponibili, non abbiamo mai avuto l'impressione che qualcosa sarebbe cambiato breve, per cui mi sono chiesto ma dov'è il posto, la casa per una proposta di questo tipo, dov'è che una proposta di questo tipo può essere ascoltata e tra l'altro ce lo siamo chiesti la prima volta che abbiamo incontrato il Parlamento europeo, il Vice Presidente allora Timmermans del Parlamento europeo e ci dicevamo ma se l'Europa e in generale le istituzioni non servono a ascoltare questo genere di proposte, chi è che le può ascoltare? Noi andiamo anche cercando di incontrare il governo americano, il governo russo, non c'è problema, nel senso se c'è possibilità noi andiamo a incontrarle, però chi ha il potere di cambiare le cose? Questa credo che sia una bella domanda, credo che dentro di noi ci sia anche la paura di non poter fare nulla, che le cose hanno un loro percorso, che la guerra non si può fermare, che la sofferenza ci sarà sempre, che alcune persone devono fare una vita schifosa, mentre noi dobbiamo stare nella nostra tranquillità. Non è così, non è così, c'è una possibilità e questa pace si avvicinerà, riusciremo a avvicinarla nella misura in cui ci coinvolgeremo nella vita di queste persone, che non sono solamente, hanno anche, non sono solamente dei problemi, sono delle persone che ci portano un modo di vedere diverso, ne parlavo con te, io credo che uno dei motivi per cui l'Europa fa così fatica ad accogliere profughi, sia che uno che ha paura di essere contagiato dalla paura, della povertà, dell'insicurezza, secondo che non vuole ascoltare la voce di queste persone che dicono con la loro vita, guardate che voi la guerra non potete più permettervela, deve uscire dalla politica, deve esserci una politica diversa, che dà uno spazio per esempio a chi fa proposte di questo tipo, una politica che fa respirare, penso che a un giovane, per un giovane rappresenta una prospettiva interessantissima, coinvolgersi in un futuro di questo tipo, che arriverà nella misura in cui qualcuno si coinvolge per farlo. Certo, si tratta di costruire una risposta per il futuro dell'Europa, del pianeta, per tutti insomma. C'è uno spazio enorme, è tutto da percorrere, mentre lo spazio della violenza, della sopraffazione, della morte è uno spazio vecchissimo e che non ha nessun interesse, nessun futuro, speriamo. Mi sembra anche degno di nota il fatto che mi pare di capire i profughi, poi tu Abdo l'hai anche dichiarato, noi guardiamo l'Europa, anche perché l'Europa è uscita da una guerra devastante, la seconda guerra mondiale, che anche quella è stata l'abisso della ferocia, del peggio. L'Europa è uscita da questo e è riuscita a ricostruirsi, quindi forse i profughi siriani guardano in modo particolare l'Europa e dall'altra parte mi sembra importante codere quello che anche tu Alberto dici, chi se non l'Europa nel mondo di oggi, chi se non l'opinione pubblica europea può capire questa realtà? Ma insomma Abdo, cosa pensate che possa fare l'Europa? Che ruolo potrebbe giocare nella sorta di profughi siriani e per appoggiare la proposta di pace? Si, per esempio, questa è la sua domanda molto interessante e voglio molto capire un po' di farci, ma oggi come europee se non vogliono si vogliono ieri un po' di farci ma penso, in cui vogliono ieri un po' di farci, in cui ieri un po' di farci e in comunicazione, in cui vogliono ieri un po' di farci, in cui Invecele i vostri cittadini e i costatori di palazzo, e oggi si riuscita a riuscita a riuscita a riuscita a riuscita a riuscita a 50 anni in Beata l'Asad, 51 anni, quindi siamo sempre come amici, come amici, come amici, come amici che sono i paesi europei, i governi europei davvero vogliono difendere il popolo siriano, vogliono stare dalla parte del popolo siriano come dicono a parole, innanzitutto dovrebbero riconoscere che cosa ha fatto Bashar al-Assad in Siria e riconoscerlo vuol dire anche cercare di cambiare qualcosa, perché Bashar al-Assad è ancora al potere dopo dieci anni, dopo che dieci milioni di persone, la metà dei quali è fuori dalla Siria, sono profughi o sfollati, dopo che 500 mila persone sono ancora dentro le carceri siriane a morire, un milione di siriani è morto nella guerra o scappando dalla guerra, ecco, se i paesi europei davvero vogliono stare al fianco dei profughi siriani, è su questo che bisogna lavorare. Inserirsi nello scacchiere politico e giocare un ruolo che abbia un peso, c'è il fatto che Bashar al-Assad gode della protezione russa, ci sono altri interessi internazionali, forse fino adesso l'Europa si è come rifiutata, non so se si può dire questo, si è come tirata indietro, ha evitato di giocare un ruolo in questa dinamica? Mentre non si è delicato, c'è un ruolo in Syri, si c'è un ruolo in Syri. E' vero, magari l'Europa non ha inviato sul suolo siriano delle truppe o un esercito, però anche il solo fatto di rimanere in silenzio vuol dire prendere una posizione riguardo alla guerra in Siria. Significa dare il via libera a tutto quello che ha fatto la Russia al fianco di Assad. Quindi anche il fatto che l'Europa sia rimasta ferma e silenziosa ha avuto un grosso peso in questi dieci anni di guerra. In questo sicuramente l'opinione pubblica degli europei può giocare un ruolo determinante. Io penso che quello che impariamo da questa situazione è che noi cittadini europei, voglio parlare in questi termini, non solo i cittadini italiani, ma noi cittadini europei dobbiamo sapere quello che succede, cioè esprimere la nostra volontà. I profughi siriani sono i nostri alleati. Si tratta direi di costruire insieme un futuro migliore, anche se la parola magari è un po' usurata, ma di fatto è questo che è in gioco. Cioè sta a noi, ma io non so, si potrebbe continuare a parlare penso per ore, no? Scendere nei dettagli sarebbe veramente interessante, insomma, perché si tratta proprio di un punto di ripartenza per tutti. Però io, visto che dobbiamo in qualche modo concludere, vorrei chiederti, Abdo, una tua visione. Cioè come vedi il futuro della Siria? Che immagine ci puoi dare, insomma, di quello che potrebbe, che dovrebbe potrebbe essere? Cioè? ật beh, 로 amiestranti lezze inSS… Seagna devono oppure ascolta venireόpe lezze in Essaterra, voulez dire cheistry incini un ontoo per lui costruire nelle macchine… …Va sono prima. Oggi è un'come, l'ambito, dopo il passor di tutto qui sta in登録ọtare queste cose, attravertire queste cose e ricordate che anche loro, attraversate queste cose. Sempre quando si diretta il risene. Ciò che da mattino verso il pirate, quanto oggi ne informa selvagna parole tik да che vediamo Startul A Schist sekali abbiamo avuto una speranza che noi siamo come un gruppo di Soria, come un gruppo che vive, che vivono con la nostra vita, la nostra vita e la nostra vita. Quindi noi dobbiamo creare che la Soria sia come le bambini, la nostra vita e la democrazia. Noi a scuola abbiamo studiato la seconda guerra mondiale come l'Europa è stata ricostruita e di come ha costruito la democrazia e ha riportato i diritti umani al centro della vita di tutti i giorni. Questa cosa che abbiamo studiato purtroppo non è che la stiamo vivendo nella nostra vita di tutti i giorni. I profughi in Libano, nel nord della Siria e in tutto il resto del Medio Oriente sognano che questo succeda anche in Siria, cioè che venga ricostruita una Siria libera nel rispetto dei diritti umani dove chi è stato escluso possa ritornare in sicurezza e in pace. Certo, dove si torni a coltivare la terra in mezzo ai mandorli fioriti, alle piante da frutto, dove l'intelligenza delle ragazze e dei ragazzi vada verso la scienza, la conoscenza e fiorisca la civiltà. Questo deve essere anche il nostro sogno, ricordare anche che ci sono centinaia di migliaia di bambini, molti hanno poi visto l'orrore in faccia, hanno subito bombardamenti, non possiamo scordarci, insomma, deve essere al centro della nostra attenzione. Quindi, ecco, penso che, non so, potremmo concludere con, se c'è una frase anche nella tolingua abdo, una frase in siriano che contenga un augurio, insomma, con cui possiamo lasciarci, che possiamo lanciare anche i nostri spettatori e le spettatrici. Grazie mille. se io ho chiamato una storia che si chiama il suo nome io sono uno di questo gruppo il gruppo del gruppo del gruppo siamo non dimenticati che abbiamo fatto una scuola contro il gruppo il gruppo di dittatore che è stato un gruppo di mese e che tutti i gruppi di mese hanno un gruppo di mese non ci sono così, non ci sono bici. Non ci sono sempre più dimenticati, ma è vero che ci sono stati e si è morto da una storia di un'arriza e ci sono stati molto amici, che era un'arriza, che era un'arriza, che si è un'arriza e che si è un'arriza e che si è un'arriza e che il nostro corso è un'arriza, per la sua storia e per la sua storia. Noi popolo siriano non abbiamo perso la speranza che avevamo all'inizio della rivoluzione quando contro il regime chiedevamo a voce alta la libertà, la giustizia e i diritti. Siamo consapevoli che nonostante moltissimi di noi siano morti in questa guerra e tanti altri rinchiusi nelle prigioni non siamo quello che il regime siriano vorrebbe che fossimo. Non siamo carne da macello, non siamo solo persone che imbrattano un fucile e sparano con i fratelli. E conserviamo dentro di noi la speranza che in Siria ci sarà un futuro di pace per tutti. Bene, grazie veramente a Do, grazie a Valentina e Alberto. Io penso che abbiamo fatto un viaggio piccolo nella dimensione dell'orrore, della violenza, dell'abisso di questo male. però abbiamo visto anche una luce, una speranza che direi in questo straordinario spirito dei profughi siriani che è un bene per tutti noi anche nell'azione di queste persone splendide che vanno seguite, vanno supportate che sono i volontari di Operazione Colomba, quindi a questo punto vi ringrazio anche in nome di tutti i nostri telespettatori e telespettatrici e saluto tutti invitando a portarsi queste parole di Abdo nel cuore, insomma a farle risuonare. Allora, arrivederci a tutti e grazie. Grazie a tutti.